Buona domenica a tutti, un paio di settimane fa vi ho raccontato la storia di Roberto Azzurro. Roberto Azzurro è un regista, attore molto importante che io conosco da 30 anni, con il quale stiamo condividendo la scena in questo periodo con uno spettacolo che si intitola Una Lampa. Ecco, vedete, il 30 e il 31 di marzo siamo in un piccolo spazio che si trova proprio nel centro storico della città. È uno spettacolo molto bello, è un grido di dolore nei confronti della nostra meravigliosa città. Roberto, per quei pochissimi che non lo dovessero sapere, ha subito qualche tempo fa, in realtà il 4 agosto del 2017, è un'aggressione. Ha subito un'aggressione che gli ha procurato più di 30 coltellate in giro per il corpo, due massi spaccati in testa, poi è stato caricato nel bagagliaio di una macchina, questa persona ha tentato di buttarlo giù da un ponte, lui si è aggrappato alla vita come nessuno di noi probabilmente sarebbe stato capace, è stato portato, poi è stato scoperto da una pattuglia dei carabinieri, sono riusciti a portarlo all'ospedale di Benevento dove qualcuno ha deciso che lo voleva salvare, che voleva tentare di salvarlo perché in realtà quando lo hanno visto era quasi completamente dissanguato, evidentemente. C'è stata una sentenza la settimana scorsa e la giudice ha pensato bene di dare a questa persona che ha, ripeto, ha inferto più di 30 coltellate, circa 40, io ho visto, come dire, ho visto Roberto nudo in camerino, sembra la passione di Cristo guardarlo spogliato, ma ha il suo spaccato in testa, ha tentato di buttarlo giù dal ponte, eccetera, eccetera, gli ha dato 3 anni e 4 mesi, che però questo signore non fa in galera perché siccome ne ha già fatto 18 mesi, questo signore sta fuori, sta a casa perché questo prevede la legge italiana, quindi non lo so se questo potrebbe essere configurato come reato di apologia di reato, perché si dice in realtà, ma ammazzate, andate, accoltellate, tanto, ma che vi fanno? Ma che alla fine che vi fanno? Credo che ci fossero anche dei precedenti che riguardano questa persona, il quale è a casa con due bambini, con i suoi figli, ora, per carità, contenta la sua compagna, contenti tutti, evidentemente giustizia non è fatta, evidentemente adesso non so gli avvocati di Roberto Azzurro cosa avranno deciso di fare, certo non lo devono comunicare a me, voglio sperare, però voglio dire una cosa e me lo dovete consentire, mi prendo ovviamente tutta la responsabilità, la redazione di Domenica sulla Luna non c'entra niente, men che meno TV Luna, Fabio Brescia dice che ha scritto al sindaco De Magistris per dire ma com'è possibile, ma vogliamo dare un po' di voce ad un regista, un attore che ha dato lustro alla città di Napoli, non mi ha risposto nessuno, ho scritto al mio amico Alessandro Cecchipaone, un whatsapp, gli ho mandato l'articolo per dire per cortesia dammi una mano a diffondere questa notizia, ha visualizzato e non mi ha neanche risposto, ho scritto al ministro Bonafede, inutile dirvi che nessuno mi ha risposto, la giudice probabilmente non lo so perché ha ritenuto di voler dare una pena così lieve, ma non è l'unica, la cronaca di questi giorni è piena di tentati omicidi o addirittura di omicidi per i quali ci sono pene veramente inverosimili, poi provate a evadere, 10 euro di IVA sarete perseguitati per tutta la vita, non vi toglierete più i tribunali di torno per tutta la vita, i reati amministrativi in questo paese rispetto ai reati penali sono totalmente sopravvalutati, mi piacerebbe fare una chiacchiera, bere un caffè con questa giudice per capire che cosa l'è frullato nel cervello, aspettiamo il deposito della sentenza per leggerne le motivazioni e per capire come mai questo tentato omicida assassino è in libertà, dopodiché per cortesia rimettete un attimo la locandina, venite a vedere una lampa, lo dico soprattutto, ci sono solo 30 posti, è un piccolo spazio, è un piccolo teatro, ed è un teatro, questo è un testo, è un testo anche da grandissimo pubblico, l'abbiamo fatto anche al Palapartenope davanti a 700 persone, però comunque è un testo che va seguito, è un testo molto importante, lo dico agli amici, lo dico ai colleghi, lo dico a tutte quelle persone che scrivono dei messaggi, come mi dispiace sotto Facebook, sotto il post di Facebook, come mi dispiace, sono con te, non parlo per Roberto, parlo per Fabio Brescia, i vostri messaggi ce li facciamo indorati e fritti, alzate il sederino e venite a sostenere Roberto a teatro, io non c'entro niente, lo spettacolo è suo, grazie.